in quest'anno d'allegria mi è venuta una follia ero pronto a fare tutto ogni peripezia sono stato in romania mi è venuta l'allergia e volevo ritornare dritto a casa mia il dottore preoccupato dentro gli occhi mi ha guardato signor ruccio veramente non c'è niente che non va è solo un po di nostalgia ed è meglio che ritorni presto presto dritto dritto a casa sua si può fare proprio tutto ma se stasera mi butto a gala no non tornerò più si può fare proprio tutto ma se ci pensi bene anche tu niente è meglio del mood sono pieno di energia voglio il meglio che ci sia sono pronto a fare tutto ogni peripezia e con tutta l'euforia quando sono in compagnia sono anche bravo a fare tutti i giochi di magia e se tu sei preoccupato nel vedermi un po spandato stai tranquillo veramente non c'è niente che non va è soltanto la mania perché voglio come sempre darti solo tutto il meglio che ci sia si può fare proprio tutto io stasera mi butto dal fondo torno sempre più su si può fare proprio tutto ma se ci pensi bene anche tu niente è meglio del mood non c'è niente che non va è soltanto la mania perché voglio come sempre più si può fare proprio tutto ma se ci pensi bene anche tu niente è meglio del mood e se ci pensi bene anche tu niente è meglio del mood niente è meglio del mood Grazie a tutti. Buongiorno. 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 Chi è? La famiglia Disossati? Sì, sì. La famiglia dei cannibali Disossati. Piacere, sono... Il capo, scusate, chi è il capo? Io sono. È lei. Allora posso parlare con lei? Sì, sì. Benissimo. Io sono la legale rappresentante di un'azienda che si occupa di programmazione e computer. Come? Abbiamo fatto un'indagine di mercato, un'indagine demoscopica. l'indagine demoscopica. L'indagine demoscopica. l'indagine demoscopica. Che se ne vasi? Che se ne vasi? Che se ne vasi? Che se ne vasi? un'indagine demoscopica. Che se ne vasi? Che se ne vasi? E. Che non ci vasi? E come la FICUR degli affamanti? La FICUR degli affamanti? No, uno da la mano, uno si prende tutto il braccio. Va bene, noi vi aspettiamo domani mattina e il capo vi aspetta se vi potete presentare in maniera un po' più adeguata, perché il mio capo vi vuol parlare in prima persona. Vi aspetto domani, vi parco lì che lei è il capo. Grazie, presto, prima ora, puntuale. Ragazzi, benvenuti. E soprattutto complimenti per la vostra eleganza. Bene, vi porgo il benvenuto a nome di questa azienda che più che un'azienda è una grande famiglia. Qui ci sono oltre 420 dipendenti. Abbiamo bisogno di gente... Dicevo, abbiamo bisogno di gente come voi, abbiamo bisogno di gente che ci aiuti a creare e a rafforzare questo spirito di famiglia. E a tal proposito, volevo dirvi che nessuno degli altri dipendenti è a conoscenza, come possiamo dire, delle vostre origini un po' primitive, cannibalesche. Per cui, se per caso, se per caso cadesse il mondo, io mi sposto un po' più là, sono un cuoco... Dicevo, se per caso aveste fame, potete tranquillamente utilizzare la mensa aziendale. Ragazzi, io conto su di voi. Abbiamo bisogno di gente come voi. Buon lavoro a tutti. Ragazzi, per favore, sospendete tutte le attività e raggiungetemi qui. Veloci! Che è successo? Direttore, ho fatto tutto, vede? Sì. Sto pronto? Sì, sei pronto. A posto. E che è successo? Niente, ci sono delle cose che non vanno. Sì. Sì, sai, sai, io ho convocato a queste cose. Ah, sì, già. Va bene. Allora, ragazzi, niente. Il lavoro va bene. Il fatturato cresce. E si è scritta tutta. Ma io vi ho convocato perché è scomparsa da due giorni la donna delle pulizie. Ne sapete niente voi? La donna delle pulizie? No, la donna non sapete niente. Niente. Va bene. Va bene, d'accordo. Dico, se per caso voi... Se per caso cadesse il mondo io mi sposto un po' più... Dico, se per caso doveste vederla, me lo fate sapere. D'accordo? Non ci può. Va bene. Buon lavoro. Arrivederci. Buon lavoro. Non mi ha convinto però. Non mi non mi ha convinto. Scusate, scusate. Scusate. Ragazzi. In qualità di responsabile del gruppo, me lo dovete dire. Chi è che si è mangiato la donna delle pulizie? Ragazzi, chi è che si è mangiato la ragazza? A me... A me non piace perché è troppo male per me. Io c'è bello, però lui la prostra non è lo strano. Dite la verità, a me lo potete dire. Scusate. Tu sei stai... E com'è? La donna delle pulizie ti si mangia. Non a caso, voglio dire, per quattro settimane, abbiamo mangiato i dirigenti, il capo aria, i manager, i responsabili, il capo ufficio, proprio perché nessuno si accorgesse di niente. Ma passo. E tu? Proprio la donna delle pulizie ti devi mangiare. E per forza che se non è una cosa, è sempre tu che vai a essere. No. Amore. 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 che stai a fare qua? C'era ancora una sorpresa, c'era il sindacato e sono uscito prima, non sono venuto. E tu non me la devi fare, le sorprese. Ma che sorprese? Ma che sorprese? Ma mio marito qua sta, ma non lo so. Ma se non capisci o no? Che succede, amore? Vigino hai trovato affari? Bambino no. Me ne ho male. Che succede? Mi sento male. Non è che stai avendo un principio di infarto. Mi sento male. Aspetta, vada a chiamare il dottore, qui quando stai male mi devi chiamare prima. Tu non devi fare sorprese. Ma faccio bruttiggio, non le faccio bruttiggio. Aspetta, vada a chiamare il dottore. Se ne sta andando? Se ne sta andando. Papà, papà, che paura. Nella camera da letto. L'armadio, c'è un uomo nudo dentro. Uomo nudo? Sì, sì. Che paura, papà. Che paura, papà. Aspetta, aspetta, aspetta. Amore, no, scusa, amore, devo vedere una cosa. Sì, dottore. È una curiosità. Ugo, come tu sei? Cioè, Ugo, il mio migliore amico. Cioè, non lo so, grazie di... Cioè, sei inopportuno, voglio dire. Cioè, mia moglie sta avendo un principio di infarto e tu ti diverti a spaventare i bambini. di bambini. Ci fai. Ci fai. Voi lo pesce, come va? Eh, dottor, come va? Oggi ho fatto quasi 20 starnuti. Cosa mi dice? Cosa ti dico, caro mio? Salute! E lo fai a presentazione. Il nome qual è? Peppino Pinto. Peppino, ti ricordo un parente, Pinto. Ok. Qual è il problema? Non è che è proprio un problema, dottor. Diciamo che è più una curiosità. Quando ero giovane avevo l'organo sessuale. Il bisallino. Si chiama così, voglio dire. No, al momento opportuno, egli diventava duro. Che io addirittura con le mani facevo lo sforzo che non si piegava nemmeno. Che cosa vuol dire? È normale che nel momento in cui... Ma solo che dà un po' di tempo a questa parte, diciamo. Me, me? Io lo prendo, lo piego, lo attorciglio. Dottor, già. Ma il problema è che voglio sapere, ma da dove mi viene tutta questa forza? Dottore, dottore, già fa schiacchiù. Che è successo? Allora, hai dato un problema. Sacro le scale e mi stango. Scendo le scale e mi stango ancora di più. Allora, come va a fare queste scale, dottor? Sì, provate a prendere l'ascensore. Ah, non so. Franco, prendi l'ascensore prima e dopo i passi e fammi sapere. Un ascensore. Un ascensore. Lei è ascensore. Che bello? Giovane, Giovane, lascia la macchina, eh! Sono tornata a fregare la macchina. Signore, veloce, mi stanno fregando la macchina. Dottore, il problema mio è che mio marito da un po' di tempo si sente un saccappelo. Si sente? Un saccappelo! Un saccappelo, un cristian si sente un saccappelo. E me lo porti qui? Sì, e in gambeggi poi dovevo dormire. Non vuoi un saccappelo, non sono la fregalama! Giovane, vai! E' bello risolto, lo vede? Dottore, allora per quel paziente aggiungiamo l'antibiotico in terapia. E' bello giusto, l'antibiotico. Che sta a fare? Ancora qui, da stamattina che sta qui, qual è il problema? Io c'ho i problemi, dottore. E tu c'hai i problemi, tutti abbiamo i problemi, che significa? Vedete, dottore, ho il doppio mando, ecco. Cosa posso fare, dottore? Ecco, smetti due cravate. Parallelo, diciamo. Beh, come si dà? Questa è un'altra gente, è un'altra gente. Dottore, Gigi ne hai visto? Dottore, ma la vita è lì. Gigi ne hai visto? Visto! Vitoci, vitoci! Ehi, ti piace. Che figli ha fatto il pazzo che stava qua dentro? Tu l'hai visto? Quale pazzo? Quel che si sentiva un pezzo di sapone. Ah, dottore, mi ha scivolato dalle mani. Sapete come sono i saponi? Perché... No, ma guarda, a dove puoi scendere? Sì, sì. Allora, dall'altra. Bene, signora, arrivederci. Arrivederci, grazie. Buongiorno. Buongiorno. Oh, Giovane, ci organizziamo oggi per andare al cinema? A cinema, una volta. Perché? E sono andato ieri al cinema. Ah, non sapevo niente. Che hai visto? Ehi, il mio film preferito. Sì, quale? E' in dovena chi viene a cena. Ecco. Allora, dottore? Allora, 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 allora. Eh, niente. È tutto molto semplice. Abbiamo fatto quello che, insomma, dovevamo fare. E io direi, ecco, prendere delle precauzioni è importante. Di che tipo? Di che tipo? Niente alcol, per esempio. Beh, ma non le bevo. Ah, ma che già. Anche sapevo. Niente dolci. Poi direi anche niente piatti elaborati. Perché quelli fregano magari. Eh, niente caviale. Insomma, madonna mia. Ecco, come arrivo. Niente l'aragosta. Per essere tutti quei piatti simili a quelli. Quelli le scarterei a priori, proprio. Il dottore, ma sto proprio male. No, non è che stai male. Siccome ti devo imitare a cena. Per risparmiare qualcosa. Sì, dottoressa. Ah, signora Maria, come vai qui? Eh, io a voi stavo cercando. Sono venuta a fare l'ecografia. Di nuovo incitto? Eh, sì, di nuovo incitto. Ma sono otto con questo? O mi sbaglio? No, no, non si sbaglia proprio. Eh, ma sono troppi. Ah, meraviglio. Ma suo marito non prende precauzioni? Sì, com'è? Eh, mio merito, sì. Sono tutti gli altri che... Eh, ma sentite però. Eh, ma su capacchio. Ma vabbè, poi c'è stato. Eh, ma tu dottoressa! Cinque minuti e abbiamo finito. Forza, deve aprir la bocca, signora. Oh! Ma non in maniera così esagerata. Eh, vabbè, scusi, non deve entrare il trapano. Eh sì, ma io rimango fuori. Forza. Dottore. 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 Ma no, fa bene questo. Non è che non muori mai questo. Aspetta, un momento, scusa. Che è successo? Sono due minuti a chiamare. C'ho tante cose da fare. Non posso prendere un caffè, non posso leggere il giornale. Eh, scusi, è un ospedale troppo. Eh, che è successo? Dottore. Spesse volte sento che mi manca il respiro, dottore. E non ti preoccupare. Tanto è question di poco. Tranquillo. Se facciamo così... Hai visto? Lo detti, è question di poco. Non ti preoccupare. Dottore. Sì. Ma no, dottore. Brutto. 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 Brutto e brutto. Signore, respire, respire, signore. Oh, eh, non si trattenga. Eh, qua ci sono rotte le acque. Sì, dottore. I calci. I calci, quel disegno. Eh, lo so. E portali in sala travaglio che faccio preparare la sala parto. Va bene, grazie, dottore. Dottore. Dottore, ci devo chiedere una cosa. Cioè? Mo' che vado dentro alla sala parto, può venire il padre del bambino? Sì, mo' lo facciamo entrare a vostro marito, va bene? Oh, dottore. Vabbè, mio marito. Il padre del bambino. Oh, ma che dobbiamo farla la folla nella sala parto? Ma ma è strana sta cosa. Respiri, respiri profondamente per piacere. Non è un problema. Cioè, ovvio, se ci sono io me la vedo io. Per piacere, risolvi. Come va qui? Ah, buongiorno, dottore. C'ho risolto io. Va bene? Risolvi sto problema che ci tengo. Ci vediamo. Come sta? Dottore, io non lo so come sta perché c'è un'accusa che non riscate un attimo. Non lo so come sta. Cioè, che mi devo fidare a chiedere? Le preparatazioni aumentano. Aumentano? Così sono regolari. Un attimo. Mi lasci fare. Impazzito, proprio il cuore impazzito. Impazzito. Così? Sta tranquillo. Si regolarizza. Ok, capito. Faccio, faccio un'altra volta. Faccio un'altra volta. Un'altra volta. Eh sì. Vedi, ah? Così? Impazzisce. E' brutta l'acqua. E invece? E' così? Non regolarizziamo. Non regolarizziamo. Capisco. Ma posso fare qualche cosa, dottore? Sì, qualche cosa si può fare. Se ti allacci il camice, io e me. Sì, qualche cosa si può fare. Ci sono cose che non sai neanche perché Le vivi e ti fanno esaurire Ci sono cose che accadono solo a te E rischi veramente di impazzire Allora sai che c'è quando parli con me Ti prego, aspetta, no, non me lo dire Per farmi stare bene, per farmi divertir Ti prego, no, non me lo dire Sta piovendo e devo uscire Per favore, non me lo dire Ci dovrei bastare il sole a riscaldare Le ore di serenità E già tardi devo andare E la barba devo fare E di corsa devo ripartire Ti prego, non me lo dire Ed ogni sera io, per il lavoro mio Mi devo certamente organizzare Allora sai che c'è? Sarebbe bello se Un giorno fosse di 36 ore Di svegli io ne ho tre Ma poi mi sveglio Le sveglie devono ancora suonare Per farmi stare bene, per farmi rilassare Ti prego, fammi ritosa Ho tanta voglia di dormire Per favore, non me lo dire Troppe cose devo fare Non mi posso mai fermare E devo lavorare Devo lavorare E già tardi devo andare Ho le volete da pagare E ricorso all'armo di pulire E credo, non me lo dire E già tardi devo andare Squida pure il cellulare Troppe cose devo fare Non mi posso mai fermare Non mi far parlare E va bene, che sì Non me lo dire Devo più Ci sì Non me lo dire E va Quella fatto Non chiamarmi più Non chiamarmi più Adesso fammi più Adesso fammi più Mi chiamarmi lì Non me lo dire Scusa, chi era? Non me l'ha detto Non me lo dire